Sono 37 le osservazioni all'accordo di programma sul progetto del centro commerciale che dovrebbe sorgere a Due Carrare vicino al castello del Cataio presentate dall'ASCOM provinciale. Osservazioni che sono contenute nel ricorso depositato al TAR con il quale si chiede di fermare definitivamente l'opera. Siamo convinti che fare questo tipo di ricorso al TAR possa fermare questo eco mostro che altrimenti creerebbe un disastro dal punto di vista economico per tutta un'ampia area e quindi ripeto siamo convinti che questa sia la strada giusta e noi andremo avanti fino in fondo. L'ASCOM ora si augura che anche la politica ascolti il grido d'allarme mentre il sindaco Davide Moro replica Bertin invitandola a preoccuparsi piuttosto dei commercianti del paese che chiedono aiuto su altri fronti. Andremo avanti fino in fondo spero solo che la politica ci segua ci dia una mano e soprattutto che anche il sindaco di Due Carrare si faccia convinto e che non si preoccupi dei suoi cittadini commercianti di Due Carrare che sono loro che ci stimolano andare avanti. L'ASCOM confida che venga confermato il vincolo della sovrintendenza sull'area e punta su alcuni presunti vizi amministrativi. La parola ora passa con i suoi tempi al Tribunale Amministrativo Regionale.